Signorina, lei è incinta. Vincitore del leone d'oro a Venezia nel 2021. Faccio qualcosa. Per il ciclo, voilà le cinéma. Se facessi quello che mi chiedi, finirei in prigione anche lei. Se ne vada, non abbiamo altro da dirci. Forse non ha capito, non voglio tenerlo. Ti darò un biglietto con l'indirizzo di una donna. La signora Rivière ha risolto il mio problema. In prima visione, la scelta di Anne. Giovedì 21 e 20, Rai 3